Con i denti l'Albalcamo è riuscita a uscire indenne dall'insidiosissimo campo di Partanna Mondello dei padroni di casa della Parmonval. Ne è venuto fuori uno 0-0 molto scialbo, valido per la gara di campionato non giocata domenica per impraticabilità del campo e recuperata dunque ieri, che tutto sommato rappresenta quella che è stata la gara, priva sostanzialmente di emozioni. Solo la Parmonval ha cercato di usare qualcosa di più provando a sfruttare il fattore campo, ma onestamente è stato troppo poco per avere ragione sui bianconeri. Dal canto loro i bianconeri ancora una volta si sono presentati decimati senza le due punte di Diamante e Manfra e Fina. Ne è nata una partita in cui l'Alcamo ha fatto le barricate con l'intenzione di conservare il risultato e provando anche qualche timida sortita in contropiede. Punticino che fa sicuramente più comodo all'Alcamo rispetto che alla Parmonval che resta indischiata nella lotta per evitare i play-out appena un punto sopra è licata quando mancano due giornate alla fine. I bianconeri invece restano al sesto posto, ultimo utile per un piazzamento nei play-off a quota 44 tenendo a debita distanza la Nissa che ha quattro lunghezze di distacco. Nelle parole della società palermitana l'amarezza per non essere riusciti a sfondare il muro alcamese. L'Alcamo è venuto qui a giocarsi la partita strenuamente mettendosi tutti dietro la linea della palla. Non hanno mai passato la metà campo e quindi giocare con una squadra che non vuole giocare a pallone è molto molto difficile. Quindi è finita 0-0 per sfortuna, un po' di imprecisione e continuiamo la nostra lotta verso la salvezza anche se questa mancata vittoria rende ancora più arduo il cammino. Mi auguro che questo punto comunque serva all'Alcamo a qualcosa perché avendo giocato con la voglia comunque lottando su ogni pallone spero che lo facciano ogni partita per la regolarità del campionato. Ci crede ancora Mister Chico nonostante le ultime due terribili gare che aspettano l'Alcamo che dovrà affrontare dopo la sosta il Dattilo Noir in casa e il Rivera Marmi fuori rispettivamente quinta e quarta forza del girone. Ce la stiamo giocando perché fra l'altro abbiamo alla ripresa del cambiato lo scontro in casa, sto recuperando tutte quindi questa squadra al completo se la può giocare con tutti. Quando abbiamo avuto quel periodo particolare perché avevamo proprio necessità di organica non puoi regalare 5-6 uomini agli avversari però per questi 10 giorni mi stiamo per recuperare chi è mezzo e mezzo e giocarci le ultime due gare.